Ok. Allora, benvenuti a questo primo incontro di Godot. Vedo che siete tutti abbastanza numerosi, quindi adesso vedremo un po' come è strutturato il corso, un po' l'avete visto già nelle settimane precedenti. L'obiettivo è quello, in circa sei settimane, di arrivare a utilizzare Godot per poter costruire delle scene, dei piccoli game, sia 2D che 3D. In realtà l'obiettivo principale mio era quello di farvi fare delle scene 3D, tipo quelle che facciamo in Open Sim o in iFidelity. Ma per imparare Godot dal punto di vista didattico è molto interessante partire dal 2D perché è leggermente più semplice. Quindi la prima parte del corso verterà su degli oggetti 2D e dei giochi 2D e poi arriveremo a definire degli oggetti 3D, cioè dei corsi, dei game fatti con 3D. Non so quanti di voi abbiamo più o meno capito cos'è Godot. Per quelli che non l'hanno ancora capito, Godot è un engine, cioè quindi è un sistema, quindi se voi andate su internet e cercate la definizione di Godot, Wikipedia che di solito non c'è la versione in italiano. Comunque è un game engine open source che è realizzato con licenza MIT. è un progetto che è stato inizialmente fatto in Sud America, nell'America Latina, quindi vedo super giù, Centro America e Sud America, quindi Messico eccetera, e poi è stato rilasciato il dominio pubblico. La cosa interessante di questo engine è che permette di realizzare delle applicazioni 3D o anche 2D, tipo anche quella in cui siamo adesso, cioè in teoria si possono creare anche delle realizzazioni tipo Second Life, Open Sim, anche se è un po' complicato. L'alternativa professionale per costruire giochi è costituita da altri strumenti che sono Unity, Unreal Engine eccetera. Se vi ricordate all'inizio io volevo fare il corso in cui vi spiegavo come funzionava sia Godot che Unity. E alcuni di voi tra l'altro erano forse più interessati a Unity che non a Godot. Il punto è che per riuscire a fare qualcosa di un minimo serio ho deciso di concentrare tutto il corso soltanto su Godot. Quindi cercheremmo di concentrarsi un pochino su Godot in modo tale da riuscire ad arrivare a un livello un pochino più approfondito, anche se rimarremo abbastanza alla superficie, non faremo delle cose complicatissime. Ecco, un'ulteriore cosa è quello di capire le differenze fra i motori di gioco come Godot e altri programmi come Blender. Sembrerebbe che alcune delle cose che si fanno con Godot si possono fare anche con Blender. E peraltro dentro Blender fino a qualche tempo fa c'era anche un game engine interno. Ma diciamo che Blender serve sostanzialmente per creare degli oggetti 3D, mentre invece i motori di gioco, cioè i game engine tipo Godot, servono molto per far interagire degli oggetti 3D. Quindi una volta costruito l'oggetto 3D, che può essere un avatar piuttosto che una palla, piuttosto che altre cose, allora questi oggetti possono essere messi in gioco dal motore grafico, dall'engine, dal game engine. Ecco perché anche OpenSIM o iFidelity sono dei game engine, quindi sono tutti gli effetti dei game engine, tutti e tre. Quindi la domanda che potreste farmi è come mai ci potrebbe essere bisogno di avere una cosa diversa da OpenSIM? e la risposta è che con Godot potete fare delle applicazioni già abbastanza sofisticate che se doveste farle in OpenSIM sarebbe difficile da realizzare. Cioè lo scripting su OpenSIM è un pochino complesso. Non so quanti di voi sanno scriptare in OpenSIM, alzi la mano, tra quelli presenti. Comunque, il meccanismo, ecco, però lo scripting in Godot o in Unity per quello che ci interessa è già un pochino più sofisticato, nel senso che si possono fare delle cose più interessanti, si possono fare dei quiz, si possono fare delle cose molto complicate, cioè molto complicate e molto più sofisticate, diciamo, cose che se fatte con lo scripting di LSL diventerebbe veramente difficilissimo anche per me o altri espertissimi scripter farli. Quindi fare un quiz su tridimensionale su Godot o su Unity è un po' più semplice. Ma noi faremo comunque delle cose molto semplici, cioè noi non insegniamo a scriptare, però daremo alcune piccole basi, va bene? Allora, vi è un po' chiaro, insomma, queste cose che sto cercando di spiegare, quindi perché stiamo cercando di far vedere Godot, non so se vi è chiaro il perché cerchiamo di vedere Godot e ci piace Godot? A me no, a me piace molto Godot anche perché è open source. Questo fatto di essere open source vuol dire che tutto ciò che viene fatto con Godot è completamente nostro. Quindi se voi fate dell'ambientazione dei game, queste ambientazioni le potete far girare sul vostro computer, sul computer della scuola e così via senza dipendere da nessuno. Mentre invece se lo faceste con Unity, in teoria siete legati, Unity è quest'altro motore molto famoso, sareste legati a dei vincoli di licenza con la compagnia che fa Unity. e che tra notizia della settimana scorsa la società che fa Unity ha appunto deciso di limitare l'uso che si fa di chi usa il suo prodotto, il che a me mi ha un po' disturbato, anche se la differenza non è gravissima, sono delle cose un po' particolari, però in ogni momento chi fa un prodotto proprietario potrebbe alzarsi la mattina e decidere che quel prodotto non è più disponibile per nessuno e quindi non lo potete usare. Secondo me un'altra delle cose simili che è successa proprio la settimana scorsa è nell'uso della voce. La voce che in OpenSIM viene fornita gratuitamente da una società che si chiama Vivox, che è la stessa che fa la voce in Second Life. Una decina di anni fa Vivox ha deciso di lasciare la possibilità a tutte le OpenSIM di usare la voce gratuitamente. Però evidentemente hanno avuto dei problemi per cui da qualche giorno, da qualche settimana, forse una settimana non funziona più la voce su OpenSIM, almeno non mi risulta che poco fa ho provato a usarla e non mi ha funzionato. Quindi questo particolare mi sembra abbastanza interessante di poter lavorare con prodotti open source. Quindi noi lavoriamo sempre con prodotti open source, almeno io di preferenza lavoro con OpenSIM piuttosto che con Second Life, OpenSIM e open source, lavoro con Blender piuttosto che non con Maya, per lo stesso motivo, e adesso Godot lo preferirei piuttosto che... Allora la voce potrebbe esserci, non è detto, bisogna vedere se si svegliano di buzzo buono, oppure si tornerà a usare la voce che si usava una volta che c'erano dei progetti open source che usavano la voce in OpenSIM, ma questo necessiterà del lavoro da parte di Liku o di altri. Allora, se guardiamo, cominciamo un po' nel merito del corso. Quindi il corso, come vedete, è su Google Classroom e abbiamo, è strutturato a sezione, quindi la prima sezione, la sezione 0, si, Momble è proprio uno di questi progetti open source che dicevamo prima, che si usava dieci anni fa, prima di Vivox, ma che sfortunatamente dieci anni fa funzionava malissimo. Adesso magari funzionerà meglio. Torniamo allora al programma. La parte 0 è una parte di materiale che scadeva oggi in cui vi chiedevo di avere una vista di dettaglio, insomma, di qual è il programma del corso. Quindi il programma del corso è un documento che spero che abbiate visto tutti. Questo qui è un drive dove ci sono tutti i link al corso, dove spieghiamo che facciamo installare Godot e entriamo in programmazione i G-descript. E poi c'è tutto il discorso solito in cui spieghiamo che appunto ci siamo noi, che organizziamo, noi siamo in Edu3D. Credo che sappiate tutti cos'è Edu3D, visto che siete riusciti a entrare, insomma, in Edu3D, eccetera. Se non lo sapete, in dettaglio, è semplicemente un'associazione, un gruppo di amici, di volontari, insegnanti e nonno, che sta cercando di costruire quella che è una comunità di pratica, una comunità pratica di divisione ed amicizia, che cerca di aiutare a usare questi strumenti per l'educazione in primo luogo, ma anche semplicemente per rendersi utili o per fare delle cose divertenti. Al termine del corso, di questo, come gli altri corsi, vi lasciamo un attestato che ha un puro valore simbolico, non ha un valore legale. Quindi non potete usarlo, non potete usarlo se non per dimostrare perché avete un po' meno messo, insomma, testa e impegno in questi argomenti. Va bene. Poi, le altre cose che vi avevo chiesto per questa prima puntata era quella di scaricare il Godot 3.1 e di lanciarlo. E poi l'idea era quella di vedere quanti di voi erano riusciti a scaricarlo. No, non dovete cancellare l'altro perché ho visto che alcune cose funzionano bene sul 3.1 ma non sul 3.0.6 quindi è possibile tenerli tutti e due. Tanto sono due programmini che potete tenere in due cartelle diverse o addirittura nella stessa cartella e non si danno, almeno per quello che ho visto, fastidio. Infatti, se vedete, se io cerco dove ho scaricato io Godot.exe vedete che io ho sia il Godot 3.0.6 ma c'ho anche un Godot 3.1. 1 beta. Insomma, quindi ce li ho tutti e due. Poi mi sono fatto un'icona qua sotto e quindi convivono e sono leggermente diversi un dagli altri quindi tenete conto che se avete un progetto fatto con la 3.0 il 3.1 io ho messo il link qua. Quindi se voi andate installato sul corso ecco, installazione Godot 3.1 beta qui c'è un link che è questo che adesso ci vado sopra e qui ci sono tutte le cose da scaricare. l'hai visto? Su Google Classroom questa qui proprio l'ho messa qua nella informazioni e programma e qui c'è proprio l'installazione Godot 3.1 beta. Ora, quando installate questo Godot 3.1 beta quello che ottenete è appunto un adesso lo vediamo nulla quindi usciamo secondo uscita del later sì sì ma non importa il compito va bene anche col 3.0.6 che è fatto tanto la differenza è zero cioè questo compito ha un valore puramente simbolico in questo momento che serve soltanto per essere sicuri che riusciate a lanciare il Godot ma è talmente facile lanciare anche il Godot 3.1 beta che chi ha fatto la versione 3.0 va bene anche quello. Ecco se però volete scaricare anzi preferibile che magari scarichiate il 3.1 beta perché le prove i video eccetera che adesso farò in poi lo farò col 3.1 quindi c'è una leggera differenza che adesso vi faccio vedere. Comunque quando lanciate il Godot la cosa che vi chiede è vi chiederà di poter selezionare dei progetti adesso ne ho fatti tanti ma a voi probabilmente sarà vuoto e stasera o comunque forse ne avete già fatto vedremo come creare di nuovi progetti. Però prima di partire volevo lanciare il punto ex che ho indicato nel Google Classroom vedete che a parte che ci sono un po' di video che ho pubblicato che sono alcune informazioni su cos'è come si installa poi c'era un video dove facevo vedere una programmazione visuale che per certi versi ricordava anche un pochino come si programma con come si chiamava scratch ecco bravo con scratch e poi però andavo decisamente col GDScript perché andavo decisamente col GDScript perché la programmazione visuale per quanto apparentemente semplice tende a diventare troppo complicata per fare anche delle applicazioni abbastanza semplici quindi scrivere quattro righe di codice con GDScript significa se fatta con programmazione visuale scrivere diciamo 20-30 blocchi che si connettono l'uno con l'altro e che tende a diventare un pochino un pochino diciamo fuori di testa e quindi questa programmazione visuale l'ho inserita come come più anche questa come dimostrazione ma noi spingeremo e vi farò vedere la programmazione con GDScript perché quella è quella che ci permetterà di andare avanti rapidamente allora il parte che comunque qui dicevo ci sono una serie di tutorial pubblicati quindi potrete guardarveli molti sono in italiano ciclo di video su Godot in italiano ho messo quello che ho trovato ci sono parecchie cose anche abbastanza interessanti ho trovato poi anche ultimamente il 13 gennaio ne ho pubblicati altri ecco quello che volevo farvi vedere adesso è il lancio di un programmino costruito in Godot giusto per farvi vedere più o meno come su che cosa si arriva questo lo trovate anche qua sul Google Classroom abbiamo visto poco fa che non a tutti gli funziona la versione Mac sembra funzionare quindi quella che sarebbe la terza adesso magari cercheremo di cambiare di nome ma essendo solo dimostrativo ve lo lancio io e vedrete un po' come funziona quindi qui abbiamo Hoppy Days X e questo qui è il programmino Hoppy Days X ecco vedete quando viene lanciato c'è un c'è un'animazione e c'è un questo signore qua che praticamente permette di muovendomi con le freccine se andare a pescare delle dei premi che sono queste monetine devo evitare definire sulle devo evitare i fulmini e poi in qualche modo devo andare a pescare ecco senza morire diciamo tutto questo ora questo qua è interessantissimo perché vedete che c'ha moltissime idee quindi pericoli rischi salti cose da trovare insomma e c'ha per esempio qua in alto a destra vedete che c'è un tabellone dove si vede quante vite residue e quanti e quanti coin e quanti monete sono state raccolte quindi c'è proprio una logica abbastanza complicata nel senso che se si raccolgono un tot di monete si aumenta il numero di vite se si sbatte contro un nemico diciamo tra virgolette un ostacolo si perde una vita e se notate c'è anche questo fenomeno per cui si segue la telecamera segue insomma c'è un sacco di cose in questo gioco non so se notate ora per chi riesce a lanciarlo io faccio l'altra tab e poi lo e poi lo chiudo non lo vedete adesso ah può volersi che non riesca a vedere lo schermo questa cosa allora forse c'era un problema nella condivisione dello schermo mi dispiace comunque la magari lo vediamo poi quando vi scaricherete il punto ex comunque almeno avete colto dalla mia voce un po' quello che si poteva fare peccato che non l'avete visto in movimento però o al limite farò un piccolo video in registrazione dove si vede un po' un gioco oppure magari se c'è voglia di farlo a Emanuele di fare un piccolo un piccolo video dove fa un giro insomma della scena e la pubblica ok beh peccato che non l'avete visto ma adesso entriamo un po' nel vediamo un po' se riuscite a vedere invece il la scena effettiva cioè il il progetto cioè per vedere il progetto bisogna caricarsi il master dove sono i master che avete vediamo un po' se mi lascio scaricare questa cosa qua quindi se io scarico il master il master ve lo lascio scaricare voi questo qua il secondo master.zip vi sentite? ora se voi lo scaricate questo questo file questo punto zip dentro hoppidays.zip master.zip dentro c'è una cartella che dovete unzippare prendete questa cartella e la mettete in un posto sì e la copiate da qua e la spostate in un posto del vostro per dire sui sotto appacchio doppia potete prendere questa cartella e la spostate lì e vedete che viene aperta hoppidays master più o meno lo potete fare tra parenthesi è abbastanza corto sono 20 megabyte poi vi ricordate soltanto dove l'avete messo in questo caso sotto c user spacchio w e andate giusto per vederla questa cosa qua è interessante e vediamo insieme come si importa un progetto esistente veditemi quando avete scaricato e unzippato la vostra cartella decompresso ok adesso lanciate il Godot Engine 3.1 e poi dalla finestra principale fate importa Godot dovete cliccare su il Godot 3.1 che avete scaricato l'altra volta se non l'avete ancora scaricato lo scaricate adesso vi ho mandato un link prima sembrava no aspetta intanto dovete lanciare no quello che abbiamo scaricato prima dovete solo unzipparlo poi invece dovete lanciare Godot e da Godot dovete aprire quello che abbiamo scaricato prima e visto per dire come quindi si entra in Godot qui cliccate su in porta poi da qua bisogna andare nella cartella che avete unzippato quindi si fate sfoglia andate nel eventualmente andate qui con la freccina andate nel punto in cui l'avete scaricato W andate a prendere la cartella e poi cliccate su project.godot e a questo punto fate apri se è andato tutto bene vi appare verde cioè vi appare il nome del progetto e poi verde qua questo simbolo verde ce l'avete tutti questo questa versione verde si si ok chi la vuole poi fare dopo magari è morto il coniglietto ok allora quando quando l'avete verso verde fate import and edit e a quel punto vi appare questa cosa la vedete e vedete che avete già un coniglietto e avete anche tutta la tutta la serie di sofisticazioni quindi per tutti quelli che non sono riusciti a vedere la scena con cui giocavo io facciano il play qua in alto quindi facendo play quello che succede si apre il gioco da voi e quindi a questo punto dovreste poter giocare anche voi con il coniglietto per giocare dovete usare le freccine e lo spazio lo spazio per saltare quindi spazio per saltare la barra spazzatrice e le freccine forse spazio forse anche le freccine in su comunque sicuramente spazio per saltare le freccine per muoversi ecco quindi vedete questo che prima vi ho mascherato a parte che non devo neanche fare il video di quello che succede prima perché nel video di quello che sto facendo adesso probabilmente si vedrà il il coniglietto secondo perché voi forse ce la fate adesso vederla morta si muore il scopo di questo gioco comunque non è tanto allora per uscire su in realtà fatto così un po' scomodo perché occupa tutto sì alt f4 forse alt f4 è il modo più efficace per chiuderlo perché fa la close un po' dopo manca in quel giochino la x per farlo chiudere sì 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 manca un pezzo cioè probabilmente bisognava fare un farlo un filo meglio però il senso di quel gioco era di dare di far vedere come si faceva come si poteva fare un giochino elementare che però di qualità già abbastanza professional non so se avete notato la caratteristica anche sulla 2D che è professionale e questa professionalità viene offerta proprio dagli strumenti offerti da da Godot cioè una cosa del genere fatta ad esempio con con gli strumenti anche solo in open sim eccetera non sarebbe venuta altrettanto altrettanto bene comunque prima di andare avanti perché adesso partiremo faremo un po' di escursos in questa lezione dove vi farò vedere come costruire da zero una scena tipo questa ma partirei facendovi vedere invece come è strutturato il il gioco cioè se anche voi mi seguite no? in alto a sinistra avete quello che si chiama un livello una scena allora questo si chiama level 1 descrive ecco se 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 uso la rotella centrale del mouse e mi allontano dalla scena vedete che qui c'è tutto il gioco con il progetto del gioco non so se lo volete provare anche voi da voi ma vedete che sembra che non ci sia niente ma in realtà dentro c'è tutto lo sviluppo del gioco quindi come vedete ci sono delle piattaforme ci sono i miei personaggi ci sono tutte le i soldini che girano beh magari con un po' di calma riusciremo poi a vedere non dico tutto tutto ma almeno delle cose basi in questo in questo in queste sei settimane e poi magari se qualcuno riesce ad andare anche un po' più avanti degli altri come si diceva ci si aiuta anche un pochino tenete quanto che non è il mio obiettivo farvi fare esattamente questo gioco perché è già abbastanza forse un po' più alto rispetto a quello che si può fare in queste quattro ore insomma quattro o cinque ore che ci sentiamo ma se siete interessati potete poi approfondire e magari anche farlo ecco tra l'altro una cosa se volete questo gioco è spiegato in abbondanza da un corso in realtà non l'ho fatto io sotto Udemy c'è un corso che vi ho parlato qualche giorno fa che ancora per un giorno ecco questo corso si chiama Discovering Godot questo e qui c'è tutto la spiegazione in inglese però comunque si possono mettere i sottotitoli a quello che dice quindi è già leggermente più semplice quindi si può mettere i sottotitoli comunque ci sono c'è tutta la spiegazione per fida per segno e sono una quantità bestiale di ore ma adesso magari uno guarda solo quello che gli serve comunque ci sono ore e ore di spiegazione su come funziona e però è il corso più serio più bello che abbiamo visto finora sull'argomento ed è quello da cui io sono partito e dicevo adesso quando ve l'ho detto qualche giorno fa il corso costava 10 euro adesso mi sembra che sia ancora in offerta per un giorno a 12 euro però come avevo detto anche in altro corso diventa interessante se lo prendete più che altro perché visto che molto materiale che uso proviene da questo corso è bello insomma riconoscere cioè lui in pratica fa diversi giochi questo qui che vi ho fatto vedere solo uno la sezione 3 di questo corso se no poi c'è un corso c'è una specie di storytelling nella sezione 2 e ci sono altre cose insomma altre cose che poi vedremo ora stavo dicendo senza entrare troppo nella struttura di questo di questo gioco volevo però farvi vedere che è strutturato in maniera gerarchica non so se lo vedete nel senso che il livello dentro c'ha un player che sarebbe il nostro il nostro coniglietto il player ha attaccata la camera che lo segue e poi abbiamo gli spikes sono queste punte che fanno male che sono spike quindi sono vedete che qui c'è una serie di spikes di punte cattive no? poi ci sono una serie di monete quindi vedete qui ci sono complessivamente ci sono una sessantina sessanta 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 cinquantina di monete che sono tutte replicate no? e poi ci sono i suoni che vengono usati nel gioco poi ci sono delle cose un po' particolari i jump pads sono questi qua vedete che sono delle molle e sono degli oggetti che quando si e quando l'oggetto il coniglio finisce su una molla riceve una spinta verso l'alto forse se avete giocato un attimo vi siete resi conto qualcuno si è reso conto che finendo su su quelli praticamente si ha questa spinta no? e poi ci sono gli NPC gli NPC sono questi omini che anche questi fanno male quando quando toccano con il coniglietto e poi ci sono le nuvole e le nuvole sono degli altri oggetti di NPC che hanno la capacità di emettere dei fulmini dunque per aprire la schermata del progetto ce l'hai nel momento in cui sei entrata quindi rifaccio quindi io rientro alla lista di progetti ok quando tu sei qui nella lista dei progetti se l'hai importato il progetto quando sei importato il progetto fai se esci rientri quindi tu puoi anche chiudere tutto no? sì ma il giocare è relativo nel senso che quello è solo un test del gioco se io entro e poi clicco allora il play ti fa giocare ma se tu non provi il play sei già nel progetto come come ho visto prima quindi non è che è chiaro Rosalia come funziona? nel senso che hai aperto se hai seguito questa cosa qua entri proprio in questo in questa modalità ah ok adesso la vedi oppure la vedi anche nella tua e qui praticamente ci sono questi livelli il livello del gioco che stavo descrivendo prima ok allora la cosa prima di abbandonare questo discorso volevo solo farvi vedere che a fianco di ogni oggetto ah non lo vedevi perché io mi sono allontanato con con il mouse no? quindi vedi che ho visto tutta la scena da lontano allontanato sei riuscita anche tu? altrimenti all'inizio vedi soltanto il cioè in pratica qui quello che vedi all'inizio forse è un sottoinsieme insomma di questo questa cosa qua ok quello che volevo solo farvi notare che la scena è molto complicata in questo caso ma in realtà è composta da elementi molto semplici o relativamente semplici quindi la scena complessivamente si chiama livello 1 dentro il livello 1 abbiamo detto che c'è il player che è questo e poi ci sono sotto spike ci sono tutte le punte no? e queste punte sono gestite individualmente e sono una sottoscena la scena il simbolo di scena in Godot è questo ciak non so se si vede il ciak quindi è possibile quando si lavora con un elemento di un insieme di cliccare sul ciak e si vede soltanto l'elemento che l'elementino su cui si lavora in questo caso è la punta quindi uno può praticamente lavorare su un solo elemento del gioco per volta quindi ad esempio questo qui è il progetto della punta e con tutte le sue caratteristiche che adesso andremo a spiegare tra tutte le altre cose c'è anche uno scriptino vedete questo è uno scriptino di funzionamento delle punte che vedete sono due righe di script la cosa interessante questo qui sarebbe sopra mi fa vedere spike stop se torno al level 1 è che tutte tutte queste punte io le metto e ne metto n ma in realtà la scena delle punte è sempre una solo una per volta quindi c'è solo spike stop ma che viene duplicata n volte sì cioè in pratica il concetto è che io costruisco soltanto una un'incarnazione degli elementi del gioco e poi vado a metterla n volte nel gioco nella scena ok ma lo vediamo adesso quindi adesso io partirò da un progetto vuoto e vi faccio vedere come cominciare a costruire questi elementi come fare a fare semplicemente il il nostro ma possiamo anche partire dal coniglietto se vogliamo nel senso che allora per partire dal coniglietto adesso vedremo ci possiamo prendere le i come si dice i disegni che rappresentano i i coniglietti qui vedete che da Godot c'è in basso a sinistra c'è una parte dove si può navigare sulla struttura del progetto e c'è una cartella in questo caso si chiama GFX graphics e poi c'è sotto players qui ci sono tutti i disegnini che vengono usati nel gioco quindi noi possiamo prendere alcuni di questi disegnini e costruirci un un nostro che sono poi semplicemente dei .png quindi proviamo a creare un gioco nuovo ok quindi questo progetto lo chiudiamo tra l'altro visto 16 low io la cosa ho fatto tutto questo discorso pensando a te perché tu a un certo punto mi avevi detto come mai era il caso di fare una sottoscena del player invece di mettere tutto sotto in una scena unica ecco e la risposta è quella che se tu adesso nel player magari uno potrebbe dire potrebbe importare relativamente poco ma se tu hai fatto una scena per il player poi quella scena del player la puoi inserire in tanti giochi diversi facilmente cioè si prende proprio solo la scena la si copia e incolla e la si ricicla in un altro gioco con gli suoi script eccetera mentre invece se fosse stata una scena monolitica diventava complicato prendere un pezzettino o replicarlo n volte come hai visto che hai fatto per le monetine eccetera comunque facciamo un nuovo progetto facciamo un nuovo progetto e lo chiamiamo per esempio Godot edu3d o quello che volete lui vi crea il progetto in un posto che li indicate voi quindi cuserspack.io documents facciamo create folder quindi in questo momento si è creato qua dentro ha creato un progetto vuoto e fate create and edit e vi trovate in questa struttura il progetto in realtà non è completamente vuoto perché dentro ci sono due file un default env.trs e un icon .png se andate sulla vostra cartella abbiamo detto che l'ho copiato ecco lui vi ha costruito sotto dove l'avete detto voi pacchi o documenti nel mio caso Godot edu3d qui sotto ha costruito l'icon png e il project.godot e il default env.trs questi tre file sono lì ora facciamo che partiamo provvisoriamente da questi da questi elementi quindi abbiamo comunque un iconcino quindi un disegnino che tra l'altro se cliccate qua su questo simbolo vi fa vedere tutti i disegni png cosa rappresentano se vogliamo fare un gioco 2d conviene predisporre il tutto poi sopra mettiamo 2d quindi ci mettiamo in questa modalità il navigatore scena rimesso a destra come era in 3.0 se vuoi sì non c'è nessun problema l'unica cosa che io avevo pensato di lasciarlo a sinistra come sul 3.0 perché poi ad esempio in unity si trova a sinistra sapete che qualcuno di voi mi diceva che voleva usare poi unity in realtà allora volevo cercare di fare in modo tale che fosse già abituati a come vi trovavate le cose su unity comunque è lo stesso se lo trovate a destra o a sinistra basta che vi capiate che ci vi capiate allora la cosa interessante vedete che quando è vuoto non c'è niente possiamo decidere di fare una scena 2d che è quello che faremo noi create root node 2d scene quindi si crea una scena che si chiama node 2d e noi questa scena la chiamiamo principale per il momento scena principale se vogliamo scena principale ok e a questo punto dentro questa scena possiamo cominciare a metterci delle cose noi ci metteremo uno sprite lo sprite se lo mettiamo vedete che ha creato questo simbolino icon l'ha chiamato icon perché si chiama icon il disegno e questo diventa un elemento del gioco ok allora se questo è il nostro personaggio che si muove in realtà dobbiamo metterlo dentro un nodo vedete qui c'è tutta questa struttura gerarchica che adesso vedremo che tendenzialmente dovrà contenere il personaggio giocante e l'ambiente quindi noi faremo un esempio molto semplice stasera in cui faremo un player che si muove con i tasti un po' come avete visto prima e che però ha un'interazione con un altro oggetto sotto che diventerà una piattaforma o qualche cosa adesso vediamo la costruiamo in qualche modo vediamo di farlo interagire quindi la cosa principale è di capire l'interazione di questi oggetti fra di loro che nel mondo 2D parliamo di collisioni non so se avete presente il termine di concetto le cose interessanti dello sprite sono la texture da qui composto e poi anche dalla diciamo dalla struttura di collisione collision shape la forma di collisione allora sembrerebbe la texture sarebbe il disegno la forma di collisione è quando è che questo oggetto collide con un altro in pratica il discorso è se io faccio shift D no ctrl D neanche no icon facciamo duplica ctrl D ok vedete qui ho messo due sprite uno a fianco all'altro ora se quando gioco voglio generare una collisione è importante capire se la collisione la voglio generare in che momento voglio generare la collisione cioè quando che cosa deve collidere con cosa quindi tipicamente un oggetto di questo tipo avrà una forma di collisione che potrebbe essere o quadrata per indicare tutto il suo intorno o circolare per indicare che collide solo proprio la forma della testa oppure potrebbe collidere soltanto alcune cose ma adesso diciamo che lo facciamo semplice allora per generare la collisione occorre sostanzialmente aggiungere un nodo di tipo collisione 2D quindi bisogna sempre specificare la forma di collisione quindi collision shape 2D e la collision shape 2D in questo momento è fatta è fatta lì cioè ce l'ha messa in questo punto ma noi possiamo prendere la collisione se ce la farà spostare no quindi conviene forse fare la gerarchia giusta qui la gerarchia giusta per un player è aggiungere il kinetic kinematic body kinematic body 2D e sotto il kinematic body 2D ci mettiamo sia l'icona che la collision shape e questa la buttiamo via per il momento dunque elimina nodo ok quindi questa è questa è la struttura di un giocatore tipico cioè si fa un kinematic body dentro si mette il suo disegno e la sua forma di collisione kinematic body sono le strutture dati insomma i nodi che servono proprio per rappresentare i giocatori che si muovono ci saranno poi in una scena tipicamente altri body che invece sono static body che rappresentano l'ambiente l'environment ma concentriamoci su questo quindi collision shape che è questo vogliamo farlo in modo tale che sia vedete che questo qua è collision shape scusate no in realtà la shape è fatta il triangolino indica il punto di aggancio però facciamo una cosa voglio ripartire un secondo da zero scena principale aggiungo nell'ordine il kinematic body ok vedete che quando aggiungo il kinematic body compare questo triangolino giallo che vuol dire che vuol dire che gli manca qualcosa in questo caso gli dice che manca la forma di collisione come minimo quindi io gli aggiungo nodo figlio e gli aggiungo la collision shape a questo punto lui gli va bene ma dice che manca la shape di collisione però dobbiamo mettergli proprio anche questo sprite si chiama quindi aggiungiamo un nodo figlio che sarà uno sprite sarà lo sprite contenente l'icona qui costruito in un modo leggermente più complesso nel senso che lo sprite è vuoto affinché non gli si mette la texture e la texture la si può mettere trascinando una texture in questo campetto texture e quindi si genera il nostro sprite la collision un shape al triangolino in questo caso perché gli manca se noi guardiamo dice che gli manca la forma cioè shape si prega di creare una risorsa forma shape questo vuol dire che dobbiamo andare qui e creare una new la forma può essere o una capsula che sarebbe una specie di ovale o un cerchio oppure potrebbe essere nel nostro caso facciamo un rectangle shape così quindi quando si fa il rectangle shape adesso all'inizio la forma è molto piccola e ci sono questi due cerchiorini rossi che possono essere ampliati vedete che se amplio questi cerchiorini compare questo quadrato questo rettangolo blu questo rettangolo blu è la collision shape quindi io posso fare la collision shape che coincida esattamente con il mio sprite questo vorrà dire che lo sprite colliderà con altre cose seguendo fedelmente questa struttura quindi ha questi limiti di allora osservate che nel momento in cui ho messo sia la collision shape che è lo sprite che è la sua forma sono scomparsi tutti i triangolini quindi questo è il nostro kinematic body a questo punto per evitare di confondersi conviene dire che tutto questo oggetto deve comportarsi come un tutt'uno perché se no si rischia di spostare vedete che io sto spostando lo sprite ma non la sua collisione e questo è un po' un problema perché colliderebbe questo sprite colliderebbe in un posto in cui non è è un po' confusionario quindi conviene ctrl z e poi cliccare su kinematic body 2d e poi clicco su questo simbolo che linka è una specie di link linka tutto ciò che sta sotto in modo tale che ogni volta che lo sposto sposto sempre tutto quindi qui ho generato un oggetto che 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 in questo momento dovrebbe potrebbe già forse giocare comunque la cosa che deve passare qua è che questo qui è il player che gli diamo il nome player giocatore o robottino e questo robottino che sarebbe Godot a questo punto è fatto da uno sprite da forma di collisione adesso se non vedete in Godot 3.1 se io lanciassi la scena vedete che qui in alto c'è il lancio della scena allora la prima cosa che mi dice di salvare la scena e quindi scena principale salva e poi ecco non succede niente quindi occorre mettergli un qualche cosa che permetta che permetta allo sprite di muoversi e qui entra in gioco lo script continuate a sentire sì non sento più reazioni sì ok quindi lo script è quello che dà vita al nostro oggetto e per fare lo script a questo punto semplicemente mentre siamo sul robottino clicchiamo qua sul simbolo di aggiungi script e qui gli mettiamo crea quindi lega script nodo il tipo e g di script ripeto ho fatto le tentative anche di pomeriggio per vedere quanto arrivavamo con il visual script ma alla fine il gd script è veramente il più efficiente quindi creiamo lo script e in questo script la funzione più interessante in assoluto che possiamo fare è la func che si chiama physics process physics process è una funzione che viene eseguita a ogni a ogni frame cioè quindi è quella che permette di muovere ogni fotogramma ogni fotogramma finisce lanciato a questa funzione e noi faremo la cosa che gli facciamo fare è questo qui è un move and slide dove il move and slide gli metteremo è una funzione che fa muovere lo sprite e gli metteremo un vettore quindi sarà un vector 2 dove gli diciamo di muoversi con una certa e però questo linguaggio di scripting che si chiama gd script è un linguaggio già molto più blasonato di lsl lsl è un linguaggio abbastanza complicato a mio avviso mentre invece questo linguaggio qua assomiglia molto a un linguaggio abbastanza famoso che si chiama python molto simile al python allora beh ma questi script che vi faccio vedere sono dei script che sono difficili insomma da produrre la prima volta ma una volta prodotti si possono riciclare un po' come si riciclano gli sl esatto e servono per per come punto di partenza nel senso che una volta capito come mettere lo script al robottino poi questo script quando si muove ve lo potete portare da un progetto eh ce ne sono parecchie comunque no move and slide è una funzione che semplicemente fa muovere lo sprite secondo delle coordinate ci danno le coordinate e si dice vai in questa direzione gli si dà una direzione le direzioni sono gestite da un vettore cioè da due numeri vector di due sono due numeri e quindi gli si dice che deve fare eh zero cento dove la prima è la x e la seconda è la y quindi facendo così semplicemente gli si dice di muoversi verso il basso basta cioè questo è sostanzialmente se funziona cioè se io lo salvo ctrl s e lancio sempre qua lancio la scena f6 non so se vedete lo vedete cosa succede si vede quindi avete visto che l'effetto di questo di questo script è quello di fare andare verso il basso il nostro sprite quindi va verso il basso e in questo caso va verso il basso di più se invece di mettere 100 come seconda posizione gli mettevo 100 come prima gli faceva anche aumentare la x e quindi vediamo secondo voi cosa fa mettendo in questa cosa qua va verso il basso alto sinistra destra cioè ogni fotogramma aumenta sia la x che la y no in questo caso non fa non va verso l'alto ma va in diagonale esatto perché aumentano tutte e due quindi se io faccio il reciclo di questo vedete va in diagonale ok allora adesso la cosa che faremo ancora è semplicemente quello di pilotare questa cosa qua in modo tale da andare nella direzione che gli dico io e quindi per farlo andare nella direzione che dico io devo sentire cosa sta premendo il l'utente quindi per dire noi vogliamo farlo andare verso il basso quindi così solo se quindi facciamo if in inglese if c'è un comando che si chiama input punto action dove is action pressed e poi se ha premuto il down ecco e poi gli metto un tab qua quindi gli ho messo sempre quello di prima che andava verso il basso ma gli metto move and slide questo qui soltanto se ha premuto il tasto la freccina in giù quindi se io salvo e poi rilancio la scena vedete che lui è fermo ma se io premo la freccina in giù muovo lo faccio andare in basso adesso forse forse vi è un po' scioccato all'inizio questo move and slide ma una volta che l'avete visto e che lo date per scontato dovrebbe essere chiaro che mi domando semplicemente se l'utente preme la freccia in giù allora io scivolo in giù è chiaro questa cosa? ecco analogamente se io voglio fare in modo tale che regisca anche con gli altri il linguaggio non lo conoscete ma al momento a parte le cose da sapere sono queste che qui viene chiamato no è python di fatto questo è un python leggermente modificato ma è a tutti gli effetti la sintassi esatta del python comprese anche le cretinate del python che sono quelle che qui se mettete tab devono essere tab sotto quindi qui ok quindi ma anche se non conosceste python al di là del fatto che ecco se il python c'è questa brutturia magari lo discutiamo più avanti selezioniamo le due righe sì ma l'SL in realtà è ancora più complicato perché ha tutti gli eventi tutte queste cose strane qui è tutto più semplice secondo me perché allora schiamo andiamo qui app allora ecco domanda secondo voi se io voglio farlo andare verso l'alto quando premo la freccia in alto cos'è devo metterci qua su questo vector allora no devo lavorare sulla Y perché le dimensioni sono praticamente quello che succede qui commenti si possono scrivere con con questo cancelletto allora praticamente se andate sulla destra mettiamo la allora aumenta la X se invece andate verso il basso quindi un po' se andate verso il basso qui aumenta la Y quindi se io invece voglio farlo andare verso l'alto devo diminuire la Y e quindi devo mettere meno è chiaro? proviamo a vedere se questo funziona quindi facciamo la scena freccia in giù freccia in su mi piace? quindi sta reggendo e sta muovendosi andando in su e in giù poi non preoccupatevi quello del non è che facciamo cose troppo più complicate di questa adesso stiamo semplicemente prendendo dei blocchetti che abbiamo capito cosa fanno cose molto semplici in questo caso il moving slide va in giù il moving slide va in su no? e adesso lo facciamo andare a sinistra e destra quindi selezioniamo questo anzi selezioniamo tutti e quattro perché sono in colla qui gli faremo we ho premuto contro lo spazio per avere l'aiutino e posso fare left ok allora qua we left cosa devo scrivere qua nel vector 2 secondo voi prendere a sinistra devo mettere i due numeri x e y quanto vale x e quanto vale y idee? allora x negativo e sarà meno 100 0 perché queste hanno la differenza che fate nelle due direzioni meno 100 e 0 e mentre se invece andiamo a destra light mettete il contrario più 100 quindi 100 0 ma chi di voi non è esperto di coding dicevo questi pezzi qua ve li fate fare o li trovate in giro sono le piccole 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 pezze di codice che si trovano da qualche parte e poi si mette si agganciate semplicemente lo script allo sprite e lui realizzerà quello che quello che trovate chiaro che poi se si capisce un briciolo di cosa sta cercando di fare questa cosa se ci sono dei piccoli problemi si risolvono ma gli script intanto ce li scambiamo ce li scambiamo fra di noi e li pubblicheremo magari teniamo una piccola libreria di script poi Emanuele o altri scripter che ci sono qua magari si attiveranno per darvi una mano sì comunque se non avete mai visto lo script in vista volta in vita vostra forse è un po' scioccante la prima volta chi di voi ha visto soltanto scratch questa cosa qua scritta in scratch sarebbero delle cose forse più semplici da vedere ma ti garantisco Eva che lo scripting di GDScript che è Python è molto più semplice di di LSL ma comunque anche in una cosa simile la facevi vediamo la documentazione che dice sì ma voi potete giocare no 100 e allora facendo così se lo facciamo girare e adesso vediamo un po' giochiamo questo freccia in giù freccia a destra freccia in su freccia a sinistra ce la portiamo in giro notate che se io premo non so se funziona ma se io faccio freccia in giù e a destra vedete che vado in diagonale quindi questo qui sta anche se premo due tasti insieme li becca insieme quindi sono però vedete che va abbastanza lento quindi io vorrei poter dire di farlo andare più veloce quindi se voglio farlo andare più veloce ad esempio voglio farlo andare il doppio di velocità dovrei sostituire a 100 100 vuol dire soltanto un numero di pixel con cui si muove cioè non è a ogni frame si muove di quelle quantità no? di quel cos'è solo che se io voglio cambiare la velocità in cui si muove mi conviene mettere una cosa che chiamo var speed all'inizio che metto 100 in modo tale che se voglio cambiare la velocità non devo andare a toccare tutte le righe no? quindi qui metto meno speed meno speed vedete che al posto di 100 ho messo speed questo è un modo tipico che si usa nei programmi per cercare di evitare di scrivere di cambiare tante cose in posti diversi così se io voglio cambiare la velocità adesso se io rilancio questa scena vedete che lui si muove più o meno come prima ma se io voglio farlo al doppio di velocità è sufficiente che vado qua e gli metto 200 quindi facendo 200 facendo e te si muove decisamente più e vi copio il codice in chat certo vi lo metto tutto dall'inizio anche se non l'avete scritto vediamo un po' vediamo se riuscite a prenderlo lo vedete beh la variabile in realtà questa qui più che una variabile potrebbe essere vista come una costante quindi forse conviene metterla come costante perché tra le costanti di solito si mettono tutte maiusche vuol dire che sono delle cose che pensiamo che rimangano costanti per tutto il nostro game quindi così lo riproviamo e abbiamo lui che si muove che fa la cosa ok allora il primissimo esercizio che secondo me è utile che facciate è semplicemente di far muovere il vostro mette tutto su una riga in godò è brutto ma vediamo un po' se riusciamo a a mettermelo vabbè no è un po' lunghetto da fare vediamo se ve lo passo su 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 OpenSIM magari funziona meglio ecco provate a vedere se lo prendete lo prende meglio da OpenSIM ok in realtà questo script va ancora un attimo migliorato nel senso che di solito non si mette non si ripete il move and slide in ogni riga ma si mette il move and slide solo alla fine tipicamente quindi si mette una move and slide alla fine della nostra cosa e al posto del vettore si dice di quanto deve muovere no quindi si fa move and slide move e poi qua si fa un var move uguale vector di 2 tipicamente e poi in realtà la cosa che si fa di solito è di cambiare solo move uguale vector vector2 se no appunto non si può fare move.x tanto forse si è ancora più aspettate uguale down no move.y uguale 100 no speed poi qui si dice move.y uguale meno speed move.x uguale meno speed uguale move.x uguale speed e poi move and slide di move vediamo un po' se funziona e poi ve lo discuto un pochino ok vedete si funziona cioè con le freccine funziona questo è il modo diciamo più canonico di fare questo genere di operazione quindi si fa l'operazione più complicata alla fine e poi si prepara diciamo l'elemento con cui deve muoversi quindi a seconda di come si muove si manipolano le y e le x dicendo se va in giù deve incrementare le y e se va in su deve decrementare insomma queste cose qua quindi si mettono queste cose quindi all'inizio move x move y valgono 0 e poi si movimenta e si cambia la x e la y questo script qua è esattamente identico al precedente solo che è scritto in un modo leggermente diverso in modo tale in teoria da aiutare a farlo cioè aiutare a lavorarci sopra vi passo anche questa seconda versione dello script ctrl c la mettiamo in qua ok ecco e poi l'ultima cosa visto che si sta facendo un pochino tardi che sarebbe carino da fare è di farvi vedere la gravità cioè vediamo questo oggettino che va giù per gravità e che noi dobbiamo cercare di tenerlo a galla e questo come script è molto semplice vuol dire che ogni giro semplicemente noi gli diciamo che la y deve incrementarsi quindi move y incrementarsi basta scrivere più uguale e lo incrementa di un fattore di gravità possiamo fare const gravity e gli mettiamo per esempio 100 quindi che in ogni caso lui aumenta la y sia che tu premi che non premi lui va giù uno script di questo tipo se lo lanciamo vedete che lui va giù e quindi io devo spingerlo e devo muoverlo con i tasti per evitare che lui cada giù se se cogliete ho praticamente aggiunto una funzionalità che lo fa cadere sempre che è questo e poi la reazione ai vari tasti e volendo potrei ancora mettere un salto cioè se potrei dirgli che se si preme lo spazio lo spazio c'è lo spazio sarà forse non ricordo qual è lo spazio accept forse non so se accept lo spazio o l'invio comunque diciamo che se premo lo spazio o l'invio move y meno uguale e gli mettiamo un fattore che è il jump const jump uguale gli diciamo che valga 500 e quindi nel caso che ho premuto quel tasto lì lo faccio salire su in realtà di jump quindi vediamo un attimo solo prima se funziona questa cosa qua quindi ah no salto vedete ecco lo salto lo sbarra premendo lo sbarra lui fa un saltino io lo tengo premuto più lui salta quindi in sintesi quello che abbiamo fatto adesso è un programmino che sente i tasti applica la gravità e permette di fare di muoversi quindi questo è il movimento questo è il salto e questa è la gravità per dirla in parole povere in pratica ogni fotogramma devo dire semplicemente come deve andare la x e la y quindi questo dal punto di vista didattico secondo me tra l'altro è anche abbastanza semplice e interessante che permette di far capire la gravità no e il movimento in termini di coordinate x e y allora quanti di voi sono insegnanti di fisica matematica o simili o simili materie dovrebbero capire che è interessante questa cosa però insomma comunque adesso finiamo perché sono le 11 io adesso lascio la registrazione qui domani ve la ritrovate vi chiederei magari di riguardare queste cose nella registrazione magari metto anche questo script e se anche non capite questo questo script fate semplicemente fare copy in colla e cercate e cercate semplicemente di usarlo il concetto è il concetto che dovrebbe passarvi di questa sera è la capacità di progettare una scena dove c'è un un player quindi un che ha una collision shape quindi concetti fondamentali sono sì 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 i concetti sono questi quindi capire cos'è un kinematic body che il kinematic body è un oggetto che si muove di suo quindi noi gli diciamo lui come muoversi di suo vuol dire quei tasti che gli diciamo noi che ha una una forma di collisione e che ha un disegno e che poi vedremo che può collidere più o meno stiamo a prossimo magari anche con Emanuele vi farò vedere come animarlo eventualmente e come farlo collidere collidere vuole semplicemente dire che se c'è sotto una piattaforma quindi questa cosa qua ti interessa la cosa che stiamo facendo tra l'altro alcuni motori game engine hanno la gravità incorporata tra l'altro mi sembra di aver visto oggi che anche su Godot entro certe condizioni anche senza script l'oggetto potrebbe cadere la gravità quindi nel momento in cui si è detto che che è un che è un qualche cosa che c'è la gravità ad esempio se questo qui invece di farlo collision shape 2D lo facciamo static shape la forma della robottina lo dico solo brevementissimo semplicemente sullo sprite gli ho spostato questa icona che trovo qua l'ho spostata qua dentro ho fatto proprio un trascina lì dentro oppure in realtà una cosa ancora ancora più semplice sarebbe stata quella di trascinare la forma qua e lui crea automaticamente uno sprite però secondo me ha senso che impariate a mettere a mettere le texture qui dentro le loro le loro cose robottini sprite ce ne sono cioè se aprite il progetto che abbiamo visto prima quello del che abbiamo visto con W doppia e andate su Hoppy Days quello di prima che vi siete scaricate andate sotto GFX qui trovate players e trovate tutti i coniglietti ad esempio ci sono vari coniglietti in tutte le loro vedete che c'è il coniglietto che si muove ma credo che su internet ce ne siano migliaia comunque magari cercherò di trovarvene un tot di indirizzi per la prossima volta sì ripeto se volete disegnare qualcosa voi basta che sia un png quindi potete fare qualunque sito qualunque sito che vi permette di disegnare e di ottenere un jpeg un png sarebbe meglio in teoria e poi questi oggetti basta che li scarichiate sotto basta che li mettiate sotto la cartella cioè qui praticamente potete show in file manager e vi apre se qui mettete il jpeg lui automaticamente quando vedete qua vi fa vedere direttamente gli oggetti allora gli sprite possono avere qualunque dimensione in teoria lo sprite può essere anche grosso enorme dipende da cosa volete fare voi chiaramente se sono degli sprite che rappresentano dei giocatori devono avere delle dimensioni coerenti con quello che volete con cui volete giocare va Emanuele ha alzato la mano vedate che magari facciamo una cosa visto che faccio la mute così se qualcuno di voi vuole parlare volevi chiedere qualcosa Emanuele no volevo dire solo che se comunque hanno delle domande poi se gli dai il mio contatto possono anche chiedere a me in questi giorni se non riescono a fare quello che gli dai da fare sì perfetto ma in realtà basta che loro digitino su google classroom oppure su facebook e tu dovresti vedere quindi se qualcuno ha delle domande fa un posto su facebook hai paura adesso hai paura no vabbè ma comunque non c'è solo Emanuele credo che ci siano anche altri che sono qua che le cose che ho spiegato più o meno le hanno già fatte nelle settimane scorse e magari non nel dettaglio ma comunque sanno va bene allora ci sentiamo comunque nei prossimi giorni sempre appunto su facebook eccetera e poi per mercoledì prossimo cerchiamo di fare un ripasso di queste cose e magari qualcosuccia in più tipo l'animazione che ci tenevo che faceste e le collisioni con con delle piattaforme in modo tale da poter fare degli schemi progettare proprio delle cose poi adesso vedo con Emanuele e vediamo cosa proporre ma nel frattempo allora io spengo un attimo la registrazione e vi saluto